salve a tutti ragazzi oggi vi mostrerò l'aggiornamento della mia collezione di carte numero iniziamo subito collezione che è stata quasi ultimata ieri che mi sono arrivate delle belle carte e adesso ve le mostrerò da numero 6 chronomalia atlantis numero c6 chronomalia caos atlantis numero 7 numero 8 numero 9 numero c9 numero 10 numero 12 numero 13 numero 15 numero c15 numero 16 numero 17 numero 19 numero 20 numero 25 numero 30 numero 31 numero 32 numero c32 cost numero 33 34 34 la versione poi 39 c39 c39 v39 vittoria c radici utopia 40 c40 44 46 49 50 53 54 55 6 57 61 63 64 64 65 69 69 cresciuta veramente tanto una dimensione della solo utopia 74 82 questo ce l'ho doppione 83 85 87 88 c88 91 92 c92 96 c96 102 102 102 104 g 104 g 104 e 105 oppure c 105 allora in generale posso dirvi che ho un po di doppioni ho un numero 13 doppione numero 31 doppione numero c15 numero c40 numero c88 e numero 82 tutti i doppioni numero 44 poi ho 100 numero 101 e il numero 11 che è 50% quindi io ho messo il numero 4 le ho messo le mie carte, poi sono disposto a fare scambi, le carte che sono uscite nei draghi della leggenda l'ho già ordinate, quindi non mi fate proposte di scambio con quelle carte, a me manca il 66, il 107, se non mi sbaglio basta, basta così, che posso dire altro, andate appunto su ebay e cercate, e cercatemi, le carte sono a un buon prezzo, ottimo, sono sia in inglese, sia in italiano, quindi avete varie varietà di scelte, e vi auguro una buona giornata, ciao a tutti ragazzi.